Potete fanno la mia metà, c'è la forza vitale, perché Aynon muoia, io devo morire. Aynon è già morto. È vivo. Non ha importanza. Non li senti? I nostri ribelli hanno salito il castello, vivo o morto, Aynon è sconfitto, abbiamo vinto. Non vincerete mai perché la tua malvagità non verrà distrutta e per fare questo devi distruggere me. No, durassi che la tua spada e i tuoi servizi erano miei, di chiamarti se ne avevo bisogno, di chiederti quello che volevo. No, voglio che ti appenga il tuo voto, cavaliere. Arrivato, Aynon viene a fermarti. Colpisci prima che sia proprio cazzo. Tu sei l'ultimo. Il mio tempo è passato. Colpisci. Ma è mio amico? Ma allora come mio amico? Colpetti, ti prego! Non riesco. Allora mi costringo inizia. Combatti, ammazzadrego. Dipenditi! Muoviti e lei muorirà. Muoviti e lei muorirà. Muoviti e lei muorirà. Luis'è morirà. Grazie. 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 Grazie.